Oggi era difficile, perché venivano da due sconfitte, avevano speso tanto con Venezia, quindi loro sono un'ottima squadra, hanno giocato un po' a legato col topo, sono stati lì, non ci hanno ripreso, però sono stati bravi a trovare energie e a non rimanere lì. Mi hanno fatto un po' di fatica ad attaccare il nostro corpo, sono stati un po' meno lucidi, loro sono una buona squadra, hanno un talento, hanno recuperato, poi alla fine però siamo stati bravi in un momento in cui era appunto adulto, fanno farci prendere del mio berlino e trovare delle buone soluzioni. Per l'ala probabilmente non siamo andati con la testa giusta e abbiamo pagato anche questo. A Venezia è stata una partita difficile, ci siamo bravi contro la primavera classica, la siamo giocata fino in fondo, qualche episodio si pagarebbe, però ci è servito come un banco di prova per il video, sicuramente. Adesso oggi siamo ripartiti con due punti importanti perché altrimenti scappateci avrebbero ripreso. Dobbiamo continuare così fino alla fine, adesso abbiamo questa coppa, quindi dobbiamo andare a fare bene, c'è anche perché qua la cinema è casa nostra, quindi andremo contando entusiasmo.